Si è parlato di uso di stupefacenti ed abuso di bevande alcoliche tra gli adolescenti questa mattina nel corso delle attività di educazione alla legalità e alla salute nell'aula magna dell'Istituto Scolastico Ettore Romagnoli di Gela. I ragazzi delle classi terze hanno incontrato il comandante del reparto territoriale dei Carabinieri, il Maggiore Valerio Marra. È importante parlare ai ragazzi soprattutto in un'età molto particolare della loro vita, 14 anni. Sono ragazzi di terza media e ai ragazzi spiegheremo cosa fa l'arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini quindi anche dei minori e soprattutto daremo dei consigli importanti e utili per la loro vita futura anche sull'abuso per esempio di sostanze alcoliche, sull'uso di sostanze stupefacenti, quali rischi comportano da un punto di vista soprattutto giuridico e cercheremo di far capire che il Carabiniere è vicino al cittadino e quindi vicino anche ai ragazzi. Il concetto di legalità, dice il dirigente scolastico Sandra Scicolone, comincia proprio tra i banchi di scuola. Già all'interno della scuola primaria si iniziano a dare elementi prodromici a quella che sarà l'educazione di un cittadino a vivere civilmente in collaborazione con gli altri e in convivenza con gli altri. La legalità per noi è fondamentale come proprio diciamo pilastro della nostra azione educativa. La Romagnoli ci lavora costantemente oggi con il Maggiore Marra affrontando un tema molto delicato qual è quello dell'uso degli stupefacenti e delle bevande alcoliche, anzi direi l'abuso delle bevande alcoliche tra gli studenti. Magari non è un problema che riguarda i nostri studenti ma che potrebbe già riguardarli sapete le soglie di quel quattordicesimo anno, di quel quindicesimo anno in cui l'adolescenza ti dà quasi l'autorizzazione a poter fare determinate cose, ad assumere determinate atteggiamenti. Questa è un'azione ovviamente preventiva ma rientra, continuo a dire, nella fondamentale ragione dell'esistenza di un servizio pubblico come la scuola.